Oggi la Chiesa genera il suo mistero più caro, il suo mistero più prezioso, l'Eucaristia, il corpo e il sangue del Signore. Ma anche noi siamo qui come tanti gruppi di 50 persone di cui ci parlava il Vangelo, sedute nel deserto in attesa di accogliere e di mangiare il pane spezzato e condiviso dal Signore. Simbolo e profezia del suo corpo donato per la salvezza di tutti. Quando la famiglia ebraica si riuniva per la cena pasquale, il figlio più piccolo di casa, prima di iniziare il pasto, rivolgeva al Padre questa domanda. Che significa questo rito? Il Padre ne specificava il senso tradizionale, religioso, fede di quel rito. E anche noi, questa sera, riuniti in questa basilica come comunità cristiana del Bicariato di Barcellona, ci vogliamo anche voi quella domanda. Che significa questo rito? Che significa celebrare insieme la cena del Signore? Che significa questa festa solente del suo corpo e del suo santo? Tutti sappiamo che ogni celebrazione eucaristica è rendimento di grazie al Signore per tutti i suoi doni. Ma la celebrazione eucaristica è soprattutto memoriale, cioè ricordo vivo e attualizzante dell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. E a quella esperienza ci rimanda. Quella sera del Giovedì Santo, Gesù, prima di lasciare i suoi e di tornare al Padre, siede con gli amici attorno alla menza per celebrare la Pasqua di liberazione e di fraternità. per fare memoria dell'alleanza che Dio ha istruinato, sottipulato con il suo popolo sul Montesilai. Ma non sono solo ripetizioni di un rito antico nelle sue parole. Quello che egli compie è un gesto totalmente nuovo. Gesù, infatti, prende il pane e il calice del vino, benedice e le grazie a Dio per i doni, e dice una parola nuova. Questo pane è il mio corpo, dato per voi e per tutti. Questo vino è il mio sangue, versato per voi e per tutti. segni di un'alleanza nuova, un'alleanza d'amore, nuova e definitiva. Al rito della tradizione della Pasqua di Parica, Gesù aggiunge delle parole che cambiano tutto. parole con cui egli identifica la sua persona con quelle offerte. Parole che indicano che è Lui stesso che si odia. sono io e il mio corpo e il mio sangue, la mia vita, dice Gesù, con il suo gesto. E porgendo il pane e il calice agli amici, vi invita a nutrirsi di tutti. prendete e mangiatele tutti. Prendete e bevetele tutti. E con il gesto semplice compiuto quella sera, una volta per tutte, Gesù riassume e ricapitola tutta la vita e la missione. il suo Devo, la sua parola, la sua preghiera, la sua esistenza, tutto per Gesù è dono e servizio d'amore. Reso ai fratelli. Nulla egli trattiene per sé. L'autore della lettera agli ebrei racconta che Gesù entrando nel mondo dice ecco, io vengo io a fare la tua volontà. Quindi, il pane spezzato e il vino versato, il sacramento del suo corpo e del suo sangue, escrivono l'obbedienza di Gesù al progetto del pane e la sua consagrazione ad un servizio della vostra vita un servizio e lavoro a Dio e ai fratelli. E la Chiesa obbedisce al comando del Signore celebrando ogni domenica, ogni giorno l'Eucaristia in memoria di lui, in memoria del suo Signore. purtroppo però dobbiamo riconoscere che spesso le celebrazioni delle nostre Chiese rischiano di essere soltanto dei ridi, ridi, bene, solenne, se volete, con l'incenso, il suono dell'organo, il canto, ma soltanto ridi che non incidono nella vita concreta, ridi che mancano di un afflato vitale, perché mancano di quella carica d'amore e ci spinga a diventare persone e comunità eucaristiche, cioè capaci di farci fare per i fratelli. Nella scena che l'Evangelista ci ha descritto, la moltiplicazione dei panni, l'Evangelista è sicuramente risalto la compassione di Gesù verso la folla che lo ha seguito nel deserto per ascoltare la sua parola e al termine della giornata Gesù si preoccupa che la gente abbia da mangiare perché non venga meno lungo il cammino. E con una preoccupazione esquisitamente umana quella di Gesù che dice ai discepoli voi stessi date l'orolo da mangiare. Bene, io penso che questa preoccupazione del Signore ci interpella. Ci interpella come comunità cristiana, come singole persone pretenti e interpella anche la società civile in nome di quella solidarietà umana nei confronti di chi è nel bisogno. E allora ripropongo l'interrogativo iniziale. che significa questo rito? Per noi cristiani la celebrazione dell'eucaristia è esperienza di fraternità. un'esperienza che ci rende solidari verso il cuore. Non possiamo dimenticare che l'eucaristia è nata in un contesto di sofferenza la sofferenza di Gesù e deve rendere i cristiani uomini e donne famiglie e comunità sensibili alle sofferenze e ai sofferenzi cominciando da quelli del territorio in cui viviamo. In una delle preghiere eucaristiche chiediamo al Signore donaci Signore occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli ma che ci impegniamo realmente al servizio dei uomini e dei sofferenzi. Ecco perché queste parole non siano parole nuote alla luce di queste parole dobbiamo acquisire una donzetta coerenza. Noi come comunità cristiane che ogni domenica celebriamo l'eucaristia non possiamo chiudere gli occhi di fronte al fenomeno dell'immigrazione che è diventata una tragedia umanitaria. infatti l'eucaristia ci chiama ad assumere una responsabilità eucaristica che consiste nella continua ricerca di nuove forme di solidarietà e di fraternità verso questa gente che c'era la verra dagli stenti dalla fame. pertanto la domenica noi non possiamo cercare le perestriali e al tempo stesso noi coltivare pensieri di ostracismo o combine gesti di disumanità verso i migranti che muoiono di fame non solo per mancanza di pane o di acqua ma anche perché noi non riconosciamo nemmeno la dignità di essere umani come noi. Non è possibile essere uomini umani quando in chiesa durante la messa ci scambiamo il segno della pace e poi mostrarci disumani appena usciamo dalla chiesa questo non è possibile questo contraddice il nostro essere cristiani e il nostro fare assegurea eucaristica. Abbiamo dunque bisogno di un ripensamento e di una conversione tutti in questi giorni io ricordo i miei 50 anni di sacerdosio ministeriale di questi 50 anni 38 e ho vissuto qui a Barcellona di un'altra ringrazio immensamente il Signore per il suo dono consapevole però che il dono del sacerdosio ministeriale non è dato alla persona è dato alla Chiesa perché la Chiesa venga edificata costruita anche attraverso il servizio ministeriale del presbitero ma al tempo stesso oltre che ringraziare il Signore chiedo perdono al Signore e chiedo perdono a voi fedeli per quelle volte che non ho celebrato l'Eucaristia se non con superficialità o per abitudine senza lasciarmi toccare il cuore dall'amore del Signore per quelle volte che non mi sono lasciato rinnovare la vita dalla passione per il regno di Dio e mi permetto di invitare anche i confratelli presbiteri a fare lo stesso ad associarsi a questa richiesta di perdono al Signore e ai loro fedeli affidati loro nel ministero il Signore converta le menti e i cuori di tutti loro credo e fedeli presbiteri di altri e laici e ci vende a consapevole che nutrirci della parola del Signore e del suo corpo significa accogliere il suo amore compassionevole di cui ci ha parlato l'Evangelista un amore compassionevole verso i piccoli e i poveri della storia se accogliamo e serviamo questi fratelli noi accogliamo e serviamo lui il Signore e abbiamo speranza che alla seda della nostra vita lui il Signore dirà anche a noi venite benedenti dal Padre mio perché ho avuto fame e mi avete dato da peggiare ho avuto sede e mi avete dato da bene e lo forestiero e mi avete accogli e abbiamo speranza che il Signore alla seda della nostra vita dica Gesù di noi vieni sempre buono e fedele prendi parte alla gioia del tuo Signore sia questo per tutti noi il senso autentico di questo è il frutto concreto della nostra celebrazione ateristica in questa festa solenne del corpo e del sangue del Signore e del sangue